Per molte persone magari luoghi come questo sono soltanto cumuli i vecchi sassi, ma per altre persone questi luoghi sono anche pieni di fascino e di mistero, di interesse, perché ci ricordano un passato molto molto lontano, in questo caso per esempio medievale, questi sono i resti di una piccola chiesina sulla rupe di Corviano. Alcuni dei luoghi più belli della Tuscia sono gli ambienti rupestri, gli ipogei, ce ne sono moltissimi al di sotto dei castelli medievali, che nella Tuscia venivano principalmente edificati sull'alto di rupi, che avevano quindi queste grandi pareti rocciose di tuffo principalmente, che potevano essere facilmente scavate per ricavarne ambienti come questo che vedete qui a Corviano, in cui a volte si incontrano anche tratti muratura utilizzati per separare i vari ambienti. Qui le persone di quell'epoca, del Medioevo, tenevano i propri animali, i propri oggetti per la vita quotidiana, dormivano, mangiavano e trascorrevano le loro vite quotidiane, per cui ambienti come questo ci restituiscono in pieno l'atmosfera di quei tempi passati. Ed ecco qui il vero castello di Corviano, quello edificato in muratura. e di cui restano questi imponenti ruderi edificati su una base preesistente di roccia vulcanica. La mia passione per i luoghi come questo, per i ruderi immersi nella natura, nei boschi, per i paesaggi della Tuscia, mi ha portato a esplorare, per così dire, decine di luoghi legati ai territori di Corneto, Tuscania e Viterbo, le tre città più importanti e più potenti della Tuscia medievale. Ora tutto il materiale che ho raccolto durante queste mie escursioni, queste mie ricerche, è finito dentro un libro che si intitola terre e castelli tra Corneto, Tuscania e Viterbo. Se siete interessati, come me, a cercare luoghi come questo, forse è il libro che fa per voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.